Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14 e 30 su Aracne TV. Siamo ospiti della splendida cornice di Vivere e raccontare, un programma di Aracne TV ideato da Augusto Zucchi e Gioacchino Onorati, dedicato agli autori che desiderano raccontarci le loro opere di carattere creativo, quindi ringraziamo. Il sipario di spazio scenico si apre sul nostro ospite di oggi, Marlène Prodigo, violinista presso l'Orchestra Nazionale dell'Accademia Santa Cecilia. Ben arrivata, Marlène. Grazie per l'ospitalità. Il ruolo, per essere precisi, è il ruolo di concertino dei primi violini. Questa definizione che cosa significa? Spieghiamo un po'. Beh sì, perché molto spesso mi chiedono quale ruolo ricopro in orchestra e chiaramente concertino non per tutti significa qualcosa. È facile capire bene. Non è facile capirlo. Allora, il concertino si trova esattamente di fianco al primo violino, primo violino spalla dell'orchestra. E quindi il ruolo è quello di stare accanto al primo violino nella fila dei primi violini. Quando nasce la tua passione per la musica? Quando è nato? Allora, io parto avvantaggiata perché sono figlia d'arte. I miei genitori sono mio padre è compositore, mia madre pianista. Però non mi hanno mai forzata a suonare, mi portavano i concerti chiaramente, però è sempre stata una mia libera scelta. Mi allontanavano dal pianoforte perché dicevano no, col pianoforte meglio di no. Perché il pianoforte no? Ma perché comunque alla fine è uno strumento sociale. Si suona solo quello, si studia tantissimo. Invece altri strumenti ti permettono di fare anche altre cose, orchestra, fin da piccolo. E poi soprattutto perché non è bello suonare lo stesso strumento dei genitori. C'è sempre un'influenza e quindi loro si sono mantenuti distaccati dalla mia scelta, però facendomi amare la musica. E quindi io andavo a tutti i concerti e osservavo tutti gli strumenti. Poi mia madre suonava in duo con un violinista e vedevo che si divertivano tanto. Amavo il suono del violino e quindi a un certo punto ho deciso, voglio suonare il violino. I miei genitori, sempre con le pinze e tutto quanto, inizi a suonare il violino, però hanno detto al loro amico tre mesi, non di più. Se è negata, la facciamo smettere. Non diamo false speranze. Esatto, perché loro veramente non volevano che fosse una punizione, ma un piacere e anche un divertimento. In realtà mi avevano fatto avvicinare al violino, ma ero piccolissima, avevo quattro anni. Invece lì avevano visto che era troppo dura, perché è un suono... Per quattro anni, anche solo tenere lo strumento... Si fa, si fa, è una cosa che si fa, però loro vedevano che non mi divertivo veramente. Invece a otto anni ho iniziato e da lì, insomma, è diventata la mia più grande passione e poi anche per fortuna il mio lavoro. Ti avrei chiesto infatti qual è stato il primo strumento musicale che hai provato, e quindi in questo caso prima il pianoforte. Perché comunque imitavo, imitavo i miei genitori, vedevo i miei che suonavano, soprattutto mio padre che componeva. Allora io proprio lo imitavo, proprio disegnavo tutte patate sulla partitura cercando di imitarlo. E pare che abbia anche composto da piccola un motivetto. E ricordiamo tuo padre, appunto il maestro Sergio Prodigo, che abbiamo avuto ospite anche recentemente qui a Spazio Scenico. Ti volevo riportare una frase che ho trovato in rete, che pare sia di Federico Fellini, poi presa in prestito da Nicola Piovani, che dice che la musica è pericolosa, nel senso che la musica che potere ha, secondo te? Fino a dove può arrivare? Cosa può cambiare? Come può influenzare? Per me la musica, è chiaro che il mio è un parere personale, però la musica trasmette tutto ed è un linguaggio universale. Spesso, per esempio, vengono dei direttori da noi che non parlano la nostra lingua, chiaramente parlano in inglese, però è impressionante la comunicazione che c'è attraverso la musica. Basta un gesto, basta anche un'emozione. Io credo che un linguaggio basato sull'emozione sia qualcosa di incredibile, veramente può avvicinare chiunque. Bisogna trovare il modo per rendere questo linguaggio più vicino al pubblico. E non è detto che un pubblico, tra virgolette, non colto, non recepisca a quello che noi vogliamo trasmettere. Ed è qui che si può parlare tranquillamente. Infatti, mi leggo proprio a questo discorso per sapere, per capire come avvicinare i giovani alla musica classica. Forse la bellezza, che è in qualche modo universale, si riconosce, non c'è bisogno di avere una conoscenza intellettuale, teorica, ma si percepisce. Magari anche avvicinando i giovani, scegliendo un determinato repertorio e secondo me anche spiegandolo. Perché parlare avvicina molto le persone, spesso nei nostri concerti, soprattutto di musica da camera, ma ogni tanto succede anche in orchestra. Quando si va a eseguire un brano, anche complesso, ci capita di spiegarlo. E questo avvicina tantissimo le persone, perché le prepari, le fai entrare in quel mondo. Per me non si dovrebbe nemmeno dividere musica classica, musica pop, è musica. E la musica è fatta, secondo me, per tutti. Deve arrivare a tutti, ma bisogna trovare il modo anche per avvicinare le persone. Un pubblico giovane è molto facile da coinvolgere, in realtà. C'è una scelta delle musiche un po' particolare, chiaramente. Però, secondo me, basta parlare di emozioni o spiegare anche in che contesto è stato scritto un pezzo, oppure quali sfumature o quali strumenti vengono usati. Vedi subito che qualcosa si accende, nello sguardo anche di chi è lì. Per esempio, anche nelle scuole, no? Si potrebbe veramente... Si fa spesso, si fa spesso. Andrebbe fatto di più, probabilmente. Io, insomma, l'unico ricordo che ho è il... Il flauto dolce. Il flauto dolce, ecco. Insomma, più di questo a scuola non mi hanno insegnato. Invece imparare a utilizzare, o comunque approcciare uno strumento... Anche fare dei concerti nelle scuole. Mi è capitato varie volte di fare dei concerti, in realtà, in maniera anche molto divertente. Praticamente eravamo al centro di questa aula, con tutti gli studenti intorno, proprio vicino e intorno. E quindi già lì si crea un'energia con le persone, questa vicinanza. E il fatto di sentire gli strumenti che vibrano, di averli lì a portate di mano, quasi di poterli toccare, è un'esperienza incredibile. Tu che musica ascolti quando sei a casa? Perché sono curiosa. Non ascolto musica classica. Vai, vai. Insomma, anche per staccare dal lavoro, diciamo, va bene. Cambiamo. Amo tantissimo il jazz. Appena posso, infatti, cerco di andare anche a sentirlo dal vivo, perché io invidio tantissimo questi musicisti che improvvisano. Chiaramente c'è uno studio dietro incredibile, però la nostra frustrazione da musicisti classici è di dipendere dallo spartito e vedere questa libertà di espressione, di vicinanza anche con chi suona, io lo trovo bellissimo. Amo molto tutti i generi, insomma, ascolto un po' di tutto in realtà. E cosa ti piace di più, invece, del lavoro che fai? Quindi anche lavorare in un'orchestra ogni volta? Che cos'è che senti che dici, ma quanto mi piace il mio lavoro? Questa, non lo so, il fatto di suonare insieme ad altri? Io sono molto fortunata, perché l'Accademia di Santa Cecilia è piena di giovani, piena di entusiasmo e di amicizia anche, per quello mi ritengo fortunata, perché proprio all'interno dell'orchestra io ho degli amici e già questo aiuta, avere dei rapporti così scherzosi, rende questo lavoro ancora più piacevole e poi c'è tutto il resto, c'è direttori incredibili, solisti, meravigliosi, anche musica bellissima, ogni settimana affrontiamo un repertorio diverso e ci sono spesso anche delle sorprese, insomma è un lavoro che non diventa mai statico, è molto vivo. E tra i tanti musicisti che hai incontrato c'è un incontro che ti ha segnato particolarmente? Tantissimi, tantissimi, posso parlare di quello più recente con la grande violinista Lisa Battyashvili, una violinista impeccabile, bravissima, ma soprattutto l'ho conosciuta, perché noi abbiamo spesso anche questa opportunità di vedere anche il lato umano. Durante le prove c'è la possibilità di conoscerli. Assolutamente, e lei mi ha colpito per la sua umiltà. Vedere una solista di fama internazionale che gira il mondo ogni settimana, ha un impegno in paesi diversi, che ha una famiglia, ha due figli, un marito, e lei decide i suoi periodi in funzione anche della famiglia, e questa cosa mi ha colpito tanto. Infatti anche questo volevo sapere da te, perché poi, insomma, essere musicista a un certo livello richiede tanto impegno, e quindi anche sacrificio, e magari a volte vengono messe da parte, insomma, appunto famiglia o affetti. Chi è Marlene nella vita privata? Riesci a accogliere, o a ritagliarti uno spazio per altre passioni? È molto difficile, anche perché oltre l'orchestra, io suono anche con il Sestetto Stradivari, sono tutti colleghi della mia orchestra, e quindi oltre all'impegno dell'orchestra e alle tournée, perché facciamo anche tante tournée, io poi ho anche questo impegno bellissimo, meraviglioso, e anche altri progetti che mi spingono ad andare fuori spesso. Quindi il tempo a casa è pochissimo, ma cerco di fare sport, quello aiuta molto anche proprio per lo strumento, perché noi abbiamo una posizione completamente innaturale, quindi ci vuole un po' di movimento fisico, però diciamo che il tempo libero è dedicato al relax totale. E cosa consiglieresti a un bambino che desidera in qualche modo approcciare allo studio di uno strumento, alla musica? Beh, soprattutto ai genitori del bambino di farlo appassionare, di portarlo ai concerti, a tutte le manifestazioni che ci sono già in questa città, ce ne sono tantissime proprio dedicate ai bambini, noi abbiamo un settore educational che si occupa proprio dei bambini, organizzano anche dei concerti con proprio l'orchestra grande, vedi questi gnomi con strumenti minuscoli, i corni piccolissimi, i violoncelli, così, però già lì capiscono qual è il bello di fare musica, insomma, di stare a contatto con altri bambini, ecco, di non isolarli allo studio dello strumento che è comunque importante, però far capire anche che c'è tanto dietro, ci sono tante bellissime esperienze che il bambino può condividere con gli altri, in fondo è anche una scuola di vita, perché stare a contatto quotidianamente con colleghi, insomma, può mettere a dura prova, però può essere anche molto bello, e poi lo studio della musica è anche una grandissima disciplina. Certo, quindi anche non aver paura invece della disciplina, che poi può ritornare anche utile, anche perché se no, un talento senza... Essere incanalato, chiaramente. Si perde, non ci facciamo nulla, quindi... Ma poi è formativo anche proprio lo studio dello strumento. Chiaro, anche proprio come approccio nella vita. Esatto, prendi un impegno, hai anche la responsabilità di portare avanti qualcosa. Sei responsabile anche dello strumento che hai. Però mi piace riconoscere anche in questa chiacchierata con te come poi tutto parte dalla passione, la passione è fondamentale per riuscire a superare gli ostacoli che sono quelli un po' più difficili quando devi andare avanti, ci sono delle difficoltà. Ecco, delle difficoltà che tu hai incontrato e che poi hai superato. Praticamente andare in conservatorio e fare gli studi normali, scuola media e liceo, è stata dura, molto dura, perché praticamente facevo due scuole contemporaneamente e purtroppo non sempre c'è un aiuto, perché la musica viene considerata ecco, un hobby, non è un hobby. La musica è un impegno e quindi, non so, sembra che un ragazzo perda tempo oppure dedichi poco tempo alla scuola. Invece io mi trovavo a studiare anche la notte delle volte per poter essere presente in entrambe le scuole. Però oggi raccogli anche dei frutti, delle soddisfazioni. Assolutamente. Quindi, prima di salutarti, finora, il momento in cui ti sei sentita più felice e più appagata nei tuoi concerti o appunto negli incontri che hai avuto con... È difficile questa domanda anche perché ci sono tanti momenti belli. Soprattutto quando andiamo in tournée, sia con l'orchestra che con i gruppi da camera è una sensazione bellissima poter portare all'estero il nostro orgoglio. Non so, scatta un meccanismo in tutti noi forse patriottico, non lo so, ma anche di presa di responsabilità e voglia di dimostrare quanto valiamo in questo momento secondo me è un discorso molto attuale. Infatti ti ringraziamo per quello che hai detto perché ne abbiamo bisogno insomma anche di riacquistare una certa dignità e orgoglio. Quindi grazie Marlène Prodigo, buon lavoro e a presto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.